Monsignor Feroci, direttore della Caritas di Ossesana di Roma. Monsignore, oggi è stato siglato l'accordo per la raccolta dei farmaci non utilizzati tra la Caritas e i Lions. Ci può raccontare cosa fa la Caritas in campo sanitario a Roma e qual è l'esigenza a cui debbono rispondere i Lions con la loro raccolta? Noi abbiamo qui in via Marsala un poliambulatorio. Lo slogan che utilizziamo è di questo tipo, bassa soglia di accesso, massima attenzione alla persona. Per cui tutte le persone, soprattutto le persone della strada che non andrebbero ai servizi pubblici, cioè gli ospedali eccetera, possono venire qui e vengono qui. E vengono qui soprattutto gli immigrati. Ma oggi sta aumentando anche la presenza degli italiani dove sanno che possono avere un'attenzione alla persona molto forte, molto profonda e attenta. Allora è ovvio che se c'è una richiesta da parte delle persone di essere visitati, di essere anche curati, c'è bisogno anche di farmaci. E vicino ai medici che nei nostri ambulatori ricevono e visitano i pazienti abbiamo anche il luogo dove si raccolgono farmaci. Ci sono persone che si mettono a disposizione ma ci sono anche i farmacisti che danno delle ore, mezza giornata oppure ci sono quelli che sono in pensione, che stanno molto tempo qui, che si mettono a disposizione per vedere, valutare, rendersi conto, distribuire. E abbiamo una farmacia che è simile a tutte le altre farmacie che si trovano così nel nostro territorio. Ed esiste però una mancanza di farmaci a cui potrebbe supplire questa raccolta fatta dai Lions? Sì perché è ovvio che non abbiamo sempre tutti i farmaci perché noi mettiamo a disposizione i farmaci che ci vengono donati così attraverso i Lions, attraverso le offerte delle persone che li portano direttamente qui attraverso le parrocchie che si sono attivate e quindi raccolgono in parrocchia e poi ce le fanno avere attraverso il Banco Farmaceutico e quindi adesso anche attraverso i Lions. Quindi tutte quelle che arrivano noi le valutiamo e poi dopo vengono messe a disposizione. Gian Paolo, abbiamo appena firmato l'accordo con la Caritas per la raccolta dei farmaci. Ci racconti cosa faranno i nostri club e i nostri soci per questo progetto? Sì, il progetto come tu sai bene è partito dal primo luglio dell'anno scorso. È un progetto che ha avuto molti condizionamenti soprattutto legati alla legislazione corrente che ci ha di volta in volta condizionato per trovare la via migliore. L'obiettivo era quello di consentire a persone che ancora oggi hanno bisogno di farmaci perché malati cronici di continuare a curarsi e nei casi che io ho sperimentato personalmente ma credo che siano alla conoscenza di tutti molte persone, soprattutto anziani, che hanno perso il potere d'acquisto preferiscono come ovvio mangiare piuttosto che curarsi. E allora ecco che nasce questa nostra iniziativa. Grazie al comitato presieduto da Moreno Busti è stato fatto un lavoro di controllo continuo delle leggi perché noi Lions, oltre ovviamente a fare attività benefica, preferiamo fare tutto secondo le leggi. E allora l'accordo di oggi è un accordo che secondo me è pilota, nel senso che aver noi costituito questo accordo significa che i Lions sono veicolo di raccolta semplicemente di materiale diciamo medico. Noi vorremmo raccogliere questi farmaci e fare da collettore verso struttura come la Caritas che è organizzata per valutare i farmaci e eventualmente distribuire quelli utilizzabili alle persone che hanno bisogno. Moreno, passiamo proprio alle istruzioni per l'uso. Allora, chi dei nostri soci sarà coinvolto? In che modo? Cosa dovranno fare? Beh, i nostri soci, essendo questa un'iniziativa del nostro distretto, si dovranno attivare quantomeno tutti i presidenti futuri dei club a comprare un contenitore perché già sarebbe molto bello partire con 134 club del distretto con 134 recipienti di questi farmaci che sono a norma e devono essere sicuramente così. E poi dovremmo interessare le conoscenze dei nostri soci per quanto riguarda la raccolta di questi farmaci negli studi medici e soprattutto nelle parrocchie. E la cosa che mi preme di dire è che questo service deve essere pluriennale come è già scritto nell'accordo.